notte calda caldissima per il presidente della regione puglia michele emiliano che ieri sera si è precipitato a peschici da bari per seguire da vicino le fiamme di due distinti roghi divampati nel primo pomeriggio nelle località di millepini a baia di manacore e di citrini due bocche di fuoco che si sono poi congiunte in località mandrione a metà strada tra peschici e vieste dando origine ad un unico grosso preoccupante inferno contro cui a nulla sono serviti i sette interventi di un canader e contro cui i vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno lottato fino a notte inoltrata quando fortunatamente per il vento che è cambiato aspirando dal mare le fiamme si sono spostate verso l'interno lontano dalle coste scongiurando l'evacuazione dei villaggi turistici presa inizialmente in considerazione dalle autorità locali i vigili il sindaco tavaglione l'assessore regionale all'agricoltura di gioia il vicepresidente della provincia cusmai che avevano interrotto le manifestazioni commemorative dell'ecidio di dieci anni fa per recarsi sul luogo del rogo la situazione si era manifestata talmente preoccupante da richiamare l'attenzione e la presenza del governatore della puglia michele emiliano che nella tarda serata di ieri è partito da bari per raggiungere peschici intorno all'1 e 30 questa mattina riprenderanno gli interventi della protezione civile per domare le fiamme e poi nel pomeriggio si spera i tanto attesi temporali